Spero che con questa conferenza stampa si tranquillizzano perché come ho detto abbiamo fatto un programma per il futuro ritengo buono, rinforzeremo quindi tutta la squadra e vogliamo alzare l'asticella, cioè fare molto meglio di quest'anno. Quindi speriamo che ai tifosi con i fatti gli dimostriamo che facciamo qualcosa in più. Alzare l'asticella può dire tanto o niente, però siccome già in passato esprimendo un mio desiderio è successo di tutto e di più, allora io non esprimo il desiderio ma dico alziamo l'asticella, proviamo a fare meglio e sono sicuro che con la volontà e con altre risorse possiamo fare, anche perché l'Arezzo merita di più. Ha detto che Gemma è già al lavoro per la squadra del prossimo anno, Capuano sarà ancora allenatore dell'Arezzo? Vedi? Questa è la domanda del secolo. Allora, come ho detto già prima, Capuano è stato coinvolto nella conferenza, scusate, nel tavolo di lavoro. Quindi a fine stagione noi decideremo chi resta, chi vuole salire su questo carro e fare questa nuova avventura. Due domande, se entreranno nuovi soci nell'Arezzo e se saranno aretini e come ricucire il rapporto con la piazza, perché per la prima volta da quando lei è presidente sono stati anche cori contro di lei. Sì, purtroppo, e mi dispiace. Dunque, se entreranno soci aretini, io questo, a dire la verità, io me lo auguro, perché Arezzo è una bella piazza, c'è una bella classe imprenditoriale, e quindi credo che non gli mancano i mezzi se vogliono, diciamo, diventare dei partner. I cori contro di me mi sono molto dispiaciuti. Io ci ho messo tanta buona volontà, sicuramente ho fatto degli errori, però sempre in buona fede, mai con malignità, oppure per inesperienza. Un passo importante della conferenza stampa è stato anche il fatto che lei dovrà ricapitalizzare questa... È certo, è certo. Stiamo ricapitalizzando già e siamo obbligati a farlo. Il 20 abbiamo la Covizoc e quindi diciamo pure una cosa buona, perché pagare gli stipendi sempre in regola non è un demerito, nemmeno un merito, è un dovere. E noi non abbiamo nessun punto di penalizzazione per quanto riguarda stipendi, tasse e contributi, perché la Covizoc e poi la Delight il giorno dopo fanno un grande lavoro di controllo.